Violenza, molestie, bullismo, la scuola c'è o almeno prova ad esserci attraverso il progetto pensato dall'Associazione Medea che ha promosso l'apertura di uno sportello dedicato all'interno anche dell'Istituto Aterno Mantonè di Pescara e anche attraverso una particolare app. Tutto ciò che concorre alla promozione della felicità, mi piace dirla proprio in positivo e nel senso più ampio del termine, di ogni ragazzo trova in noi accoglimento per cui anche la preoccupazione, cioè lo sportello innanzitutto è uno sportello proprio di aiuto nel periodo anche più difficile e inconsapevole della vita che è l'adolescenza In consapevole spesso non si ha la certezza di tutta e la reale consapevolezza dei propri bisogni, della strada più vera tant'è vero che la scuola ha proprio il compito di introdurre la realtà totale. In questa realtà totale comprendiamo tutto, comprendiamo il disagio, la fatica per cui uno sportello che aiuta a prendere sul serio anche un disagio che si può vivere. Allora noi non abbiamo qui realtà di violenza o di bullismo ringraziando il Dio lavoriamo tantissimo per questo, ma appunto per questo io accolgo qualunque offerta della realtà sociale, quindi delle realtà presenti che hanno a cuore l'educazione dei ragazzi e che ci vogliono dare una mano nel compito più bello del mondo, che è quello dell'educazione, cioè dell'introduzione alla realtà totale dei ragazzi Vogliamo che allo sportello vengono i ragazzi che ci chiedono come poter reprimere questa problematica sociale che non è soltanto all'interno delle scuole ma è anche fuori dalle mura dalle scuole dimostrare una violenza, procurare delle prove non è mai troppo facile e quindi questa app serve Tutto ciò che viene sul telefonino, le moleste sullo smartphone, viene registrato come un archivio forense con logaritmi non manomessi e quindi poter denunciare con concrete prove. Chiunque può scaricarlo gratuitamente, basta poi nel momento in cui si è registrati basta mettere il numero telefonico della persona che ti molestia e l'app poi fa tutto da solo Sono la vicepresidente nazionale di questa associazione Medea che apre sportelli, apre punti di incontro, punti di visibilità per cui le persone saprebbero dove andare per cercare di parlare, di capire cosa sta succedendo, di avere delle risposte Dobbiamo formare delle coscienze, intanto dobbiamo formare delle coscienze che abbiano la consapevolezza della propria quindi un'autostima, la consapevolezza del proprio valore, di essere umani qualunque siano le condizioni poi particolari quindi io credo che la scuola sia il luogo dove tutte queste riflessioni vadano fatte poi benvengano anche aiuti e supporti come questa dell'app che è veramente straordinariamente interessante